Io vorrei fare intanto, visto che ho qua alcune persone del comitato, un bel applauso a tutta l'organizzazione della festa di Colle Lauro. Ragazzi, mi aiutate che io da sola faccio fatica! Grazie al Presidente e grazie a tutti i suoi collaboratori preziosi, a partire dalle persone che sono là in cucina a faticare, a faticare di brutto. Eccoli qua, quarti classificati, prego, buonasera. Lillini. Lillini. Poggio Ancona. Poggio Ancona. Ecco qua. Prego, gli facciamo un applauso, ragazzi. Ma insomma, non vi riconosco più, eh. Il signore è da Camerano, invece. L'Una. Complimenti. L'Una Giuliana. Allora. Piano piano, perché qui è molto precario questo. Ecco. Piano pianino, eh. Senza farvi male. Ecco un'altra coppia. La seconda coppia, guardali. Buon pomeriggio, buonasera. Salve, lei chi è? Antonio di Sant'Angelo Linguardo, Pesaro Urbino. Perfetto, allora vicino a casa di Atos, in poche parole. Domini di Atos, di Ponte Labate. Lei? Valerio, Sant'Angelo Linguardo. Eccoli. Terzi classificati. Tutti di Pesaro Urbino, eh. Ecco, un bel applauso ai signori. Complimenti. Stiamo premiando gli amici del gioco della morra, eh. Complimenti. Grazie. Complimenti davvero. Adesso arrivo, eh. Adesso gli si aprono un po' i polmoni se piange un po' questo bambino, eh. Allora. La terza coppia. Classificata. La voglio qua e voglio sentire i vostri nomi e cognoni. Seconda, scusate. Scomando, mi sono perso nato e c'è il bambino che piange a fame. Sono già andato in tilt. Allora. Luigi da Pesaro Urbino. Ecco, Luigi, ciao. Fraternale Adriano da Fermignano, provincia Pesaro Urbino. Eh, mamma mia, tutti i pesaresi qua, eh. Pesaro Urbino, vai. Eccoli qua, secondi classificati. Complimenti a voi, ragazzi. Complimenti alla bustina. È certo. Primi classificati. Grazie a voi. Ci vediamo a casa, allora, eh. Ecco, perfetto. Eccoli che arrivano, eccoli che arrivano. Preparatevi a fare un bell'applauso, eh. Si vuole sentire queste mani. Eccoli, primi classificati. Guardali. Buonasera. Alberto, San Angelo in Vado Pù. Medici, Silvio, San Angelo in Vado. Traordinari, eh. Un bell'applauso a loro. Primi classificati, il vostro premio. Guarda, con che premi che tornano a casa. Una volta c'erano le coppe, nel senso quella di ferro. Adesso sono premi più belli, più naturali. Vi piacciono questi premi, complimenti. Facciamogli un bel applauso a questi amici del gioco della morra. Questi giochi belli, tradizionali che, insomma, si vedono più poco. Vanno in estinzione ed è una cosa brutta. Invece bisogna portarli avanti perché sono veramente queste belle cose tradizionali. I giovani, i giovani, è vero che devono partecipare di più a queste cose. È vero. Complimenti a voi ragazzi, veramente. Salutiamo i nostri amici del gioco della morra. Gli facciamo ancora un grandissimo applauso. E ringraziamo gli amici della festa di Colle Lauro, che sono sempre dei grandi loro. Allora.